Oggi conosciamo Alberto Montini, uno dei porti di forza di questo Arezzo, terzino, sinistro, viene dalla San Donato. Allora, prima domanda, quanto scontata il tuo impatto con questa realtà? Allora, è sicuramente un grande cambiamento per me, perché è la prima esperienza fuori, però ho trovato in primis una società molto ambiziosa e ben organizzata. E inoltre trovare un gruppo di 14 persone che già giocavano insieme è difficile entrarsi, però una volta che si conoscono tutti si entra bene in sintonia e si riesce a trovare bene le relazioni in campo. Un girone all'interno del quale è stato inserito l'Arezzo molto difficile, te li anni da un campionato di Serie C, però rispetto alla scorsa stagione è molto più difficile. Sì, esattamente, questo è il mio secondo campionato in Serie C, tuttavia quest'anno il campionato sarà piuttosto, perché ci sono più squadre che ambiscono la cadetteria, ad esempio Perugia, Spal, Cesena, Lentella, però noi cerchiamo comunque di fare il nostro campionato, anzi, avendo tutte queste squadre più blasonate diventa ancora più stimolante. Hai ritrovato il minister Paolo Indiani qua ad Arezzo, mi dici se lo hai trovato cambiato o se è sempre il solito martello che avevi conosciuto a San Donato? No, no, il mister è sempre il solito e grazie a lui se parte la mia carriera è arrivato fino a qua ad Arezzo, però sì, il mister è sempre il solito martello. Mi dici anche se è stato lui poi a cambiarti da un punto di vista tattico di impostazione, perché tu nasci come giocatore offensivo, come attaccante, adesso fai il terzino, e Indiani ci ha messo del suo, giusto? Sì, esattamente, il mister ha avuto un grosso impatto su di me, perché quando arrivò al San Donato io facevo ancora l'attaccante, e mi ha trasformato prima in quinto e poi in terzino, ed è riuscito appunto a far esplodere le mie migliori abilità. Da quella parte ci sei tu, c'è Poggesi, ci può giocare Lazzarini, ci può giocare Renzi, insomma c'è una bella concorrenza, come la affronti e come pensi di viverla in questa stagione? Allora, sicuramente la concorrenza fa parte sempre di tutta la vita, ed è anche il punto stimolante per cercare di fare meglio ad ogni allenamento, ad ogni partita. Tuttavia dobbiamo anche guardare all'importanza del progetto e della squadra, quindi sicuramente prima ci mettiamo in campo per la squadra e poi anche per se stessi. C'è molta attesa per l'inizio di questo campionato, come giudichi il precampionato dell'Arezzo? È stato molto difficile, questa qua è la quarta settimana e mezzo che ci alleniamo e facciamo doppi, tuttavia è cosa normale, prassi, giustamente per farsi trovare pronti in campionato, quindi nonostante le nostre difficoltà, l'impegno, il sudore che ci stiamo mettendo, ci stiamo facendo trovare pronti e ci saremo. Ti chiedo un'ultima cosa, cosa ti aspetti da un punto di vista personale, da questa tua stagione, da questa tua esperienza qui ad Arezzo, che arriva in un momento di crescita per te da un punto di vista professionale? Esattamente, arriva in un momento di crescita e il mio obiettivo è quello di confermarmi in categoria, di poter fare sicuramente meglio dell'anno scorso, anche perché ci sono proprio tutti gli elementi per fare meglio.